Isola dei famosi 2018, kit di sopravvivenza dei concorrenti, cosa possono portare e cosa è vietato? . Cosa possono portare sull'isola dei famosi concorrenti VIP? Ecco il kit di sopravvivenza estratto dal regolamento ufficiale. Il reality show di Canale 5 inizia lunedì 22 gennaio ed è condotto da Alessia Marcuzzi. Isola dei famosi 2018, cosa possono portare i naufraghi?. Ai partecipanti è consentito un kit personale che può contenere esclusivamente i seguenti oggetti. Due costumi da bagno. Due completi intimo. Due magliette, manica corta, manica lunga o canottiera. Due felpe o camicia o golf. Due pantaloni o gonne. Uno giacca impermeabile, tipo K vai. Due paia di scarpe. Due paia di calze. Articoli di gene intima e personale come specificato di seguito. Tre oggetti personali che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Dei tre virgola e ne sarà scelto solo uno da portare sull'isola una volta arrivati in Honduras. Sono, inoltre, concessi. Spazzolini. Pettine o spazzola. Due rasoi USA e getta, uomini. Due rasoi USA e getta, donne. Isola dei famosi 2018, cosa non possono portare i concorrenti. Sono findora vietati. Gli oggetti che possano arrecare danno o essere pericolosi per l'incolumità dei partecipanti, qualsiasi tipo d'arma. Gli oggetti che possano risolvere direttamente ogni problema di sopravvivenza. A questo proposito i partecipanti dovranno utilizzare gli strumenti e i materiali messi a disposizione nel kit collettivo e messi in palio nelle prove di ricompenso. Gli oggetti che possono favorire l'isolamento del singolo partecipante dal gruppo, libri, riviste, lettori musicali, e. Gli oggetti che possano favorire ogni comunicazione con l'esterno, telefoni cellulari e ogni tipo di ricetrasmittente. Gli oggetti atti alla misurazione del tempo, orologi, calendari, ecc. Occhiali da sole. Giochi e passatempi. Qualsivoglia materiale illegale. Alcol e tabacco. Giochi e passatempi. Giochi e passatempi. Giochi. Giochi e passatempi. Grazie a tutti.